E' trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano la situazione della casa di cura San Raffaele di Sulmona, perché a rischio ci sono i posti di lavoro. Sentiamo meglio nel servizio di Andrea D'Aurelio. 14 posti a rischio alla clinica San Raffaele di Sulmona. Lanciate l'allarme alla FPCGL dopo l'avvio della procedura, che riguarderebbe un dichiarato esubero di circa 14 lavoratori, su un totale di 92, di diversi profili professionali, quali rischierebbero di perdere posto di lavoro in un contesto territoriale, che storicamente si trova in forte difficoltà da punto di vista economico, sociale e occupazionale. Le motivazioni sarebbero da ricondurre a un mancato adeguamento del budget da parte della Regione Abruzzo per l'annualità 2019, rispetto alle prestazioni erogate in regime di accreditamento dell'unità spinale Codice 28. Secondo quanto richiarato dalla San Raffaele SPA, la CGL, a seguito della riconversione di 25 posti letto, inizialmente destinati alla riabilitazione intensiva Codice 56, in posti letto destinati all'unità spinale Codice 28, non vi è mai stato da parte della Regione Abruzzo un adeguamento del budget su una diversa e più specialistica tipologia di prestazione. In San Raffaele, fa sapere il sindacato, ha comunicato l'intenzione di ridurre il numero dei posti letto di unità spinale e conseguentemente il numero di lavoratori impiegati nella clinica e i servizi sul territorio. La FPCGL rende noto quindi di aver immediatamente avviato le procedure per l'esame congiunto della problematica, così come previsto dalla vigente normativa, avendo inviato nei giorni scorsi una nota, oltre che a San Raffaele e anche alla Regione Abruzzo, nelle persone del Presidente Pro Tempo e del Direttore del Dipartimento per la Salute e l'Uef, a fine di scongiurare qualsiasi licenziamento. Il prossimo 21 gennaio si svolgerà un'assemblea in clinica, ma l'appello è alla politica perché si faccia parte attiva per la risoluzione di una problematica che non riguarda esclusivamente i lavoratori, ma che in caso di esito negativo arrecherebbe un ulteriore ennesimo colpo, sia in termini di servizi che in termini di assistenza sanitaria qualificata, a un territorio già martoriato da crisi economiche. Si parla tanto di sanità sul territorio da collegare a quella ospedaliera, ma poi bisogna fare conti con la realtà. Quei sondaggi sono quelli che non ci hanno mai dato come prima forza politica durante le elezioni della campagna elettorale per le politiche. Io non credo nei sondaggi. Non ci ho mai creduto quando andavamo bene e non ci ho mai creduto quando vanno male. Io credo nei sondaggi delle persone, alle piazze, ai mercati, ma credo soprattutto ad un'altra cosa. I dati che devono migliorare la qualità della vita degli italiani. Lo ha detto il Vice Premier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, commentando nel corso di una passeggiata al mercato comunale di Teramo, a margine del tour elettorale in Abruzzo, per sostenere il candidato presidente alla Regione Sara Marcozzi. Dunque Di Maio ha commentato i dati pubblicati oggi che vedono la Lega volare al quasi al 36% e ripiegare i 5 stelle al 25,4%. Ma non credo nei sondaggi, ha detto Di Maio. E siamo entrati così nella campagna elettorale per le elezioni regionali. Sul Mona la culla del socialismo. Dalla tradizione del partito nasce la candidatura al Consiglio regionale di Paola Ruffo. Ascoltiamo l'intervista. Il debutto politico di Paola Ruffo con la candidatura al Consiglio regionale, con Avanti Abruzzo a sostegno di Giovanni Lenini presidente. Allora, si è detto Avanti Abruzzo, non è il pullman per arrivare in Regione, ma fermo restando la parte buona della metafora, lei comunque è salita a bordo. Quindi che cosa l'ha spinta a candidarsi? Quando si trova la motivazione per candidarsi è sicuramente perché si ha un certo amore per il proprio territorio. e altro motivo non ci può essere. Vediamo che ci sono molte cose che non vanno e quindi vorremmo nel nostro piccolo dare una nuova direzione, particolarmente io mi sono candidata qui per la Valle Peligna, una direzione un po' più operativa e più funzionale per delle politiche nuove di sviluppo proprio per questa nostra Valle Peligna. Ecco, c'è una tradizione socialista, riformista molto forte, molto marcata nella Città di Sumona, nel territorio. Quindi non so se la sua candidatura nasce anche per mettere all'angolo il civismo. Beh, certo. Io, oddio, dire di mettere all'angolo un'idea mi sembra un concetto troppo grande perché poi ciascuno, come dire, porta avanti con coraggio le proprie idee. Però esprimere un'idea diversa, quello sicuramente, perché questo non è un civismo pret-à-porter che si adatta alle occasioni e ai momenti. Questo è un civismo che ci tiene sorretti da questa nostra tradizione socialista. Poi, io proprio per mia formazione personale sono una riformista per eccellenza, nel senso che ho sempre ritenuto importante, anche a livello del nostro territorio, a portare quei cambiamenti necessari. Soprattutto se riguarda la macchina amministrativa noi dobbiamo avere il coraggio di fare questi cambiamenti. E quindi questo nostro civismo è un civismo che si presenta senza farsi scrupolo di dire che c'è un'appartenenza. Infatti l'appartenenza socialista di Avanti Abruzzo è in quella parola Avanti che noi sentiamo forte nella nostra tradizione. Per chiudere, vediamo ultimamente una politica quasi ridotta a un calciomercato. Cioè gli accordi prima, i nomi prima, i contenuti dopo. Invece lei conosce, diciamo, a menadito le aree interne, questa è la parola magica di queste e di tutte le campagne elettorali, di cosa hanno bisogno? Le aree interne innanzitutto hanno bisogno di aderire una volta per tutte alla strategia nazionale delle aree interne. Quindi noi abbiamo bisogno di quelle carte, di quei documenti che mancano. perché il nostro territorio non ha quel riconoscimento scritto di aree interna. E quindi questo disagio che noi abbiamo lo dobbiamo scrivere nero su bianco in modo da poter cogliere tutte quelle opportunità che a livello sia europeo che nazionale ci vengono date. E sono opportunità che, se non colte, in questo momento storico rischiano davvero di confinarci in quello che è un isolamento che però poi ce lo siamo anche un po' voluti da soli. Quindi l'opportunità di aprire un tavolo, io lo raffiguro in questo modo, come un grande tavolo sindacale della Valle Peligna nel quale si siedono tutti gli attori e che sono quelli dei personaggi della politica, che sono il mondo imprenditoriale, del lavoro, dell'artigianato. Quindi portare tutti questi soggetti ad un tavolo unico e effettivamente mettere sul nero su bianco le nostre necessità. Perché solo se si scrive, solo se c'è un riconoscimento vero, possiamo, come dire, cogliere quanto è più di meglio per lo sviluppo della Valle Peligna. E presentiamo adesso un altro candidato al Consiglio regionale, Fabio Pingue, che inaugura il comitato elettorale. Il giorno di Fabio Pingue è del suo comitato elettorale per le elezioni del 10 febbraio. Quindi un primissimo bilancio di questi primi giorni di campagna elettorale. Com'è stata? Che cosa ti aspetti per il Rancho Finale? Ma tante persone che sto incontrando, che hanno voglia di confrontarsi, di ascoltare e di contribuire a questo progetto che ormai vede un fronte ampio ed esteso su tutto il territorio provinciale, coeso, di proposta, l'approccio di voler parlare di temi, di voler raccontare che è possibile costruire un nuovo percorso e certo. Un aspetto che ho dovuto necessariamente toccare stamattina è un messaggio di vicinanza ai 14 lavoratori del San Raffaele in cui in queste ore si sta trattando la mobilità fra il San Raffaele e le sigle sindacali per proprio per il mancato adeguamento del contributo regionale riguardo la Spinale. Quindi la sanità, che è stato il primo tema insieme all'innovazione e al mondo del lavoro che abbiamo trattato, non riguarda solo la questione dell'ospedale di Sulmone, che è di fondamentale importanza, ma di un comparto dei servizi alle cure che questo territorio deve vedere un lavoro più certosino e migliorato. Lasciamo la pagina elettorale, passiamo ad altro. Il presidente nazionale della FIGC, Gabriele Gravina, ha ritirato ieri a Sulmona il premio Ovidio Giovani e si è intrattenuto a dialogare con gli studenti del liceo B, con il nostro servizio. Credere nei giovani ed investire sulla formazione delle nuove generazioni. Questi aspetti rappresentano ormai un pallino per il neopresidente della FIGC, Gabriele Gravina, che è intervenuto a Sulmona per ricevere il premio Ovidio Giovani, ha confidato di aver chiesto al CT della Nazionale, Roberto Mancini, di portare avanti con convinzione proprio alla politica dei giovani. Ad assegnare riconoscimento a Gravina sono stati gli studenti del liceo economico-sociale del Giambattista Vico con indirizzo motorio sportivo per la sua visione manageriale innovativa rivolta alla promozione dello sport tra i giovani. Questa è la motivazione del premio consegnato a Gabriele Gravina che si è dichiarato molto soddisfatto perché, ha spiegato, porta il nome di un grande personaggio come Ovidio. Un nome importante, un nome che esprime tanta cultura. Gravina, dopo aver ricevuto il premio Ovidio Giovani, ha consegnato alla dirigente scolastica Caterina Fantauzzi una maglia della Nazionale personalizzata con il numero 2 per indicare la seconda edizione del premio. Con il presidente della FIGC sono stati toccati vari argomenti del calcio, grazie anche alle domande rivolte dagli studenti che hanno fatto emergere particolari interessanti in merito alle azioni che saranno messe in campo sotto la sua gestione. Proprio per incentivare il calcio giovanile, Gravina ha annunciato iniziative riguardanti nello specifico chi opera in questo settore. Ci saranno nuovi corsi specialistici per tecnici che faranno solo tecnici allenatori di categorie di gioia. Parlare di calcio con Gabriele Gravina è stato di particolare importanza per il liceo Vico che, nell'ottica della diffusione di questo sport, nella scorsa stagione ha instaurato una collaborazione con la società dell'Olimpia Cedas di Sulmona. Etica, confronto e rispetto sono le tre cose essenziali che i giovani devono sforzarsi di seguire per responsabilizzare, sensibilizzare la capacità di noi adulti di essere veramente un punto di riferimento. Caratteristiche, ha rimarcato Gravina, alle quali si avvicina molto il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ma il suo idolo di sempre ha detto rispondendo ad una domanda di uno studente si chiama Gianni Rivera. Per il presidente della FIGC sarà molto importante investire sulle strutture per permettere di ospitare grandi eventi a tal proposito ha reso noto l'Italia si candida per gli europei 2028. Ciò permetterebbe di avere per il futuro impianti ulteriormente adeguati anche per i giovani che hanno bisogno di tutto ciò che possa favorire le loro attività. Hanno bisogno di riferimenti per poter allenare, esercitare, esprimere le loro grandi potenzialità. E adesso il calcio giocato. Nella quinta di ritorno dell'eccellenza impegno casalingo dei Nerostellati che domani a Lezio Ricci ospiteranno il Nereto. I pratolani sono reduci da tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di tornare al successo che manca dal 16 dicembre per provare ad accorciare sulla zona per la salvezza diretta che è ora lontana di cinque lunghezze. In promozione per Lovidiana Sulmona è vietato perdere. Domani per i Biancorossi ci sarà la trasferta Teatina contro il River Chieti. Torna in campo l'Ovidiana Sulmona dopo lo stop forzato Causa Neve della scorsa domenica. Per la quarta di ritorno del girone B di promozione i Biancorossi di Cessidio del Beato faranno visita a River Chieti 65. C'è ancora il ricordo della gara di andata quando i Teatini espugnarono il Pallozzi per 2 a 0 ma domani Lovidiana Sulmona dovrà fare il possibile per riprendere i punti non ottenuti nel match casalingo dello scorso 26 settembre. Ormai ogni partita diventa determinante a causa della situazione che si sta creando. Con la squadra in quart'ultima posizione a 18 punti superata anche da Raiano che dopo la vittoria nel recupero con lo Scafa si è portato a più 3 c'è la forte necessità di tornare al successo che manca dal 21 ottobre. Non sarà facile contro i Teatini che hanno voglia di conquistare l'intera posta in palio dopo due sconfitte consecutive. Il River Chieti vanta in attacco l'esperienza del bomber Davide Antignani a segno nove volte in questa stagione. Nei Sulmonesi il tecnico del Beato in difesa non avrà a disposizione lo squalificato Bagi ma potrà contare sul rientro di Federico. Mancheranno inoltre per infortunio il centrocampista Antonio Cucurullo e Ristem Sciala che per motivi personali si trova fuori Sulmona. In porta giocheranno a Menti Alfredo Meo così come è avvenuto a Vasto pur con una sconfitta la squadra contro la Bacigalupo è uscita a testa alta e per domani dovrà esserci la stessa determinazione ma questa volta sono necessari anche i punti. River Chieti 65 Ovidiana Sulmona sarà arbitrata da Benedetta Bologna di Vasto assistenti Francesco di Marte e Giada di Carlantonio di Teramo. Impegno casalingo del Raiano che ospiterà la fata Rangelini Abruzzo la squadra di Aldo di Corcia guarda con maggiore fiducia l'obiettivo salvezza dopo il successo contro lo Scafa anche se la strada è ancora lunga. I Peligni vorranno sfruttare quest'altro turno casalingo contro i Pescaresi che domenica scorsa hanno avuto il merito di guadagnare un punto con la vice capolista Bacicalupo. Nella fata Rangelini è squalificato il centrocampista Paolo Rosso di Vita. Al Cipriani arbitrerà Pietro Sivilli di Chieti coadiuvato da Pierpaolo Salvati di Sulmona e Claudio Abazzai dell'Aquila. Dal calcio al rugby perché tra poco al campo in località incoronata a Sulmona comincerà la quinta edizione del Memorial Salvatore Marco dedicato al ricordo di due giovani regbisti scomparsi in seguito all'incidente stradale che è avvenuto nel gennaio del 2014 sull'altopiano delle 5 miglia. alle 14.30 come dicevamo al campo in località incoronata al campo del Sulmona Rugby si svolgerà un torneo riservato a squadre old che vedrà la partecipazione di quattro formazioni la Goofy Old Sulmona Rugby i Lupi della Maiella l'Avezzano e la Tasci Falisci squadra proveniente dalla provincia di Viterbo e dunque quinta edizione del Memorial Salvatore e Marco oggi pomeriggio al campo del Sulmona Rugby in località incoronata. Lasciamo anche la pagina dedicata allo sport in questo caso al ricordo dei due giovani regbisti scomparsi nel 2014 nel gennaio 2014 adesso prima di concludere possiamo vedere la programmazione cinematografica alla multisala Ijoland di Corfinio sono in programmazione Glass alle 18 e 20 e 21 e 10 Mia e il Leone Bianco con unica proiezione alle 18 non ci resta che il crimine alle 18 e 10 e 21 e 10 Van Gogh sulla soglia dell'eternità con unica proiezione alle 21 e 10 questo per quanto riguarda la multisala Ijoland di Corfinio mentre al cinema pacifico di Sulmona c'è Ralph Spacca Internet con unica proiezione alle 16 e 30 e tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo nuvoloso molto nuvoloso con venti occidentali o sud occidentali in graduale attenuazione ma poi saranno possibili annuvolamenti consistenti associati a rovesci inizialmente più probabili sulla Marsi che nell'Aquilano in estensione verso il settore orientale costiero ma in temporane attenuazione in serata e in notata temperature in ulteriore temporane aumento specie sul versante orientale la tendenza è comunque verso una nuova diminuzione dal pomeriggio venti moderati dai quadranti occidentali o sud occidentali dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali specie lungo la fascia costiera e collinare mare poco mosso o localmente mosso con moto in aumento dal pomeriggio